Cinque libri. Cinque libri per chiederci insieme che senso ha la Pasqua oggi e cosa i suoi simboli oggi possono darci per vivere il nostro tempo. Pasqua è una parola antica, la Pasqua è una festa antica e la parola e la festa trovano le proprie radici nella cultura ebraica, ancora prima di quella cristiana. La Pasqua è la festa con cui il popolo di Israele fa memoria della libertà, della fine della schiavitù in Egitto e dell'inizio della propria libertà e tutta la cultura, la spiritualità ebraica può essere letta, è stata letta, mi viene in mente Levinas, da a partire da questo nucleo di fondo da cui origina tutta la spiritualità millenaria ebraica, quello della libertà, della liberazione, della fine di ogni schiavitù e della persona che guardando il volto di Dio si scopre libera. Poi in ambito cristiano la festa della Pasqua assumerà con Gesù un senso completamente nuovo che attraverso il cristianesimo influenzerà la cultura in occidente. Quindi se oggi noi vogliamo capire cosa può darci la Pasqua oggi, come la cultura che emana dal simbolo della Pasqua può farsi vita per noi, dobbiamo partire in questo video da un orizzonte strettamente spirituale ebraico cristiano, culturale ebraico cristiano, ma lo faremo in modo laico per chiederci cosa i simboli pasquali possono dare alle persone oggi, come la cultura appunto che emana da questi simboli si può fare vita per noi e può contribuire alla nostra vita oggi. Perché comunque l'anelito di questo canale resta sempre lo stesso, che è quello che esprime il libro fondativo, Dante nel libro fondativo di questo canale Il Convivio, quando dice che la cultura serve alla persona per essere felice. Quindi da questa prospettiva partiamo con i libri che ci aiutano nel nostro viaggio di oggi e il primo libro secondo me fondamentale è questo, non può che essere questo. Così parlò Zarathustra di Friedrich Nietzsche perché secondo me oggi un cristianesimo che non faccia i conti con la sua storia e con l'ombra che la sua storia ha prodotto è un cristianesimo che non sta in piedi, è un cristianesimo ridicolo. Mi viene in mente una scena dell'inizio di questo libro straordinario quando Zarathustra sale sulla montagna per andare in solitudine a meditare e incontra il vegliardo e il vegliardo gli chiede ma sei venuto a cercare Dio e i due parlano di Dio. Dopo Zarathustra dirà ma nessuno ha detto a questo vegliardo, a questo vecchio che Dio è morto. Ecco Dio è morto è il concetto, è la frase che in fondo è una frase pasquale perché nella simbolica della Pasqua Dio muore con cui il cristianesimo deve fare i conti. Cioè un cristianesimo che oggi voglia essere credibile e voglia essere fecondo per la vita delle persone deve fare i conti con come nella storia l'immagine che Dio ha prodotto è morta. Le immagini di Dio che il cristianesimo ha prodotto sono morte e sono morte facendo del male, sono morte fallendo nel tentativo di rendere vita il messaggio di Cristo. Ma non voglio parlare in astratto perché questa morte di Dio si incontra nella storia, si incontra nel quotidiano, si incontra nelle nostre vite e mi vengono in mente le nostre parrocchie. Già Nietzsche appunto nella Gaia Scienza, un altro suo libro diceva ma che cosa sono oggi le chiese se non i sepolchi e le tombe di Dio? Le nostre chiese sono vuote. Il cristianesimo ha avuto una forza dirompente con cui ha cambiato il mondo proprio creando comunità e oggi in ambito cattolico latino, almeno in Italia, le chiese sono vuote, sono ridotte a ritualismo senza più persone e quindi a ritualismo solipsistico che non riesce più a darci nulla e che celebra un Dio nel quale davvero nemmeno il Papa forse crede più, un Dio davvero morto e credo che per non parlare poi delle reazioni settarie a questa morte ritualistica di Dio, tutti i vari guru cristiani che hanno adempiuto la parola di Cristo nel Vangelo quando Cristo dice verranno a dirvi che io sono con loro, che io sono lì, che io sono là, ma non seguiteli perché tante sette, penso a una certa frangia protestante, ma non solo, tante sette sono nate per cercare di ravvivare Dio, di ravvivare un Dio che nella storia è morto e hanno fatto tanto tanto male e penso a miei amici quando dico questo, penso a cose che ho visto, penso a sofferenze che ho avuto sotto gli occhi. Quanto fa male, da cristiano parlo, la violenza che nel nome di Dio è stata fatta alle persone nella storia e anche nella nostra contemporaneità. Ne vediamo un esempio lampante con la posizione di Kirill, patriarca di tutte le russie, quindi ambito ortodosso russo, uno dei vescovi più importanti del mondo, che appoggia la guerra e dice questa è una guerra santa contro il Satana dell'Occidente, ravvivando un'immagine di Dio che quanti danni ha fatto nella storia. Ecco, quel Dio, il Dio di Kirill, il Dio religioso come identità da contrapporre è morto, ma quanti danni ha fatto? E qualsiasi spiritualità cristiana che non faccia i conti con la storia del cristianesimo e le sue ombre è ridicola, non sta in piedi, cade e non ci dà più niente. Mentre invece, che non si dice, proprio il confronto con la morte di Dio può diventare fecondo per un nuovo inizio. In fondo questa è la chiamata di Nietzsche che è stata definita profetica anche per il cristianesimo. Se davvero da questo confronto con l'ombra della storia del cristianesimo possiamo essere capaci di far nascere qualcosa di nuovo, di diventare creatori, diceva Nietzsche. Se non c'è più un Dio sono io il creatore. Ma questo discorso è stato interpretato in modo profetico, come una profezia feconda per il cristianesimo. E voi dite, ma chi lo dice? Tu che sei un nulla, che non conti nulla? No, per fortuna, non lo dico solo io, lo ha detto per esempio in ambito russo, perché proprio Nikolai Berdiaev è un pensatore russo, dissidente, un grande libero della grande tradizione culturale russa. Ha interpretato Nietzsche così in questo libro, 2, il senso della creazione, che parla proprio di come si può creare una spiritualità cristiana nuova, rinnovando completamente la storia del cristianesimo. E non è l'unico Berdiaev, penso anche a Panikar in ambito più occidentale e anche orientale, perché Panikar era un po' in tutti e due questi mondi. Ma in questo libro Berdiaev prende Nietzsche come un profeta che parla alla cultura cristiana e dice dobbiamo fare i conti con la morte di Dio, con la morte delle immagini con cui storicamente i cristiani hanno interpretato Dio e lo hanno usato per il loro potere, tradendo l'insegnamento di Gesù che era liberante, che continuava la tradizione della liberazione pasquale. Tradendo quel messaggio il cristianesimo è diventata la religione di Costantino, dice Berdiaev, la religione degli imperi, la religione per avere il dominio sulle coscienze. E allora, dice Berdiaev, e dico pur io, che è per quello che vale, ma dove andiamo come cristiani se non ci diciamo che siamo stati anche questo? Ovviamente non solo, ma anche molto questo. Tante volte io vedo, in ambito cattolico, in ambito protestante, in ambito ortodosso, che si fa finta di niente, si parla ancora pretendendo di avere la verità in mano e di poter insegnarla, facendo finta che la storia non ci sia stata, mandannamo, mandannamo come cristiani, da nessuna parte. E invece si può, facendo i conti con la storia, favorire la nascita di un senso nuovo del cristianesimo, che si prepara, e qui arriva il terzo volume, nella psiche. Nella psiche c'è la grande ombra che il nostro tempo sta producendo e che è anche erede della storia di ombra da cui veniamo, ed è proprio lavorando quest'ombra che può emergere un senso di vita nuovo, che poi si può fare vita concreta delle persone reali che facciano questo percorso, e questo processo di elaborazione dei simboli può trasformare anche dentro di noi la figura di Cristo, e ci può ricordare che il Cristo è venuto a liberarci, perché è venuto a dire duemila anni fa che Dio non è una proprietà del clero. All'epoca di Cristo era il clero aronnita di Gerusalemme, giudeo all'epoca nostra può essere il clero cattolico, il clero ortodosso, ma qualsiasi elite che voglia detenere Dio. No, dice Cristo, il regno è dentro di voi. Luca 17, 20, 21. E nessuno come Jung, il libro rosso, terzo libro, questa cosa l'ha tradotta nel suo ambito scientifico, che è quello della psicoanalisi, che è quello della psichiatria. Jung era un grande psichiatra, oltre che uno dei padri della psicoanalisi. Ecco, in questo libro Jung elabora il libro rosso, sono i suoi diari con cui lui lavorava dentro di sé, elabora la figura simbolica di Cristo in un modo potentissimo, e ci fa veramente capire quali sono le potenzialità di questa figura, ancora tutte da scoprire nella cultura occidentale. Ma io sto parlando ai laici, io sto parlando ai gay, io sto parlando a tutto quel mondo dei diritti e delle minoranze che di fronte a Kirill e di fronte a Salvini, cioè di fronte a quell'immagine di cristianesimo che la destra si vorrebbe arrogare o che comunque, diciamo, i tradizionalismi si vorrebbero arrogare giustamente indietreggia. Ma io parlo proprio a loro, c'è una potenzialità nella simbolica ebraico-cristiana di libertà, di spiritualità, di potenza, di affermazione della propria unicità che non è ancora sfiorata. Cioè c'è un nuovo romanticismo, un nuovo rinascimento che può emergere da questa pozza di fango dove siamo finiti culturalmente e il cristianesimo, l'immagine del cristianesimo, della Pasqua, della Resurrezione, possono dare un contributo enorme. E parlo, ripeto, alle frange più laiche, radicalmente laiche. Riprendiamoci Cristo! Riprendiamoci la figura di Gesù! Non può la figura di Gesù essere solo detenuta come un possesso? Ecco, parlavo con un teologo, un teologo gesuita molto molto importante nel settore che mi diceva si può leggere la storia della metafisica in ambito cristiano della teologia classica come un mettere le mani su Dio. Ecco, togliamo dalle mani di del clero, ma non voglio demonizzare nessuno, non voglio essere contro il clero, togliamo dalle mani di chiunque la figura di Gesù e riprendiamocela culturalmente. Riprendiamoci questa figura di ragazzo della mia età, di 33 anni, che è una figura dirompente. Riprendiamoci i grandi maestri anche condannati dall'ortodossia cattolica, che però si sono sempre sentiti cattolici, come per esempio quarto libro Meister Eckhart. Qui sono i suoi sermoni tedeschi. In questo libro ci sono proprio le prediche che questo grande dottore del suo tempo, il titolo Meister è un titolo tecnico che lui aveva perché era stato per due volte invitato a Parigi a presiedere la cattedra di teologia, l'unico altro che c'era riuscito era Tommaso D'Aquino, ma lui abbinava questo impegno accademico ha un impegno di predicazione alla gente in volgare, mentre Dante forgia il convivio e forgia la Divina Commedia e forgia quindi il volgare italiano Meister Eckhart negli stessi anni forgia quello tedesco, quello luminoso, i fulmini di luce e di cielo e di tenebra e di terrore ma di meraviglia della lingua tedesca e lo fa a piedi per le strade della Germania andando a parlare alla gente dicendo guarda che tu vali il Papa, guarda che tu vali il Cesare, l'imperatore tedesco, Dio è dentro di te, Cristo è dentro di te, lascia perdere i dogmi, è un pensatore Meister Eckhart, già non dogmatico nel 300 dogmatico scolastico. Lui è un grande scolastico, quindi conosce a mena dito i dogmi e li rispetta, ma sa anche proporre il cristianesimo come una spiritualità che va al di là dei nomi e fa incontrare l'energia di Cristo, di Dio, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo nel cuore dei lattai, nel cuore dei contadini, nel cuore delle donne che all'epoca erano ritenute inferiori. Poi Meister Eckhart, questo sarebbe tutto un altro video, quindi non mi dilungo, ma alcune sue affermazioni vengono in ambito di ortodossia cattolica contestate con una bolla papale del 1327, adesso vado a braccio se non mi ricordo male, ma il quinto libro che io vi propongo è questo di Marco Ivan Rupnik, Il cammino della vocazione cristiana di resurrezione e resurrezione, che fa capire che questa visione più spirituale, più viva, meno dogmatistica e più di trasformazione del senso dei dogmi nella vita spirituale delle persone, è presente anche in ambito ecclesiale, è presente anche nell'ambito dell'ortodossia cattolica di oggi, che è in fermento e che sta cambiando e sta elaborando il suo messaggio in modo più vivo e questo è un libro fantastico, dove ti fa capire quanto il cristianesimo può parlarci e può diventare vita. E l'ultimo libro, ce n'è un altro, più uno, quindi bonus, libro bonus, parla proprio di questo, di come le categorie culturali, di come le categorie simboliche e quindi come anche il simbolo della Pasqua possono diventare un contenuto che ci cambia la vita e impatta nella vita anche nelle condizioni peggiori. e questo libro, uno psicologo nei lager, di Viktor Frankl, è proprio, quindi il più uno, sesto libro, 5 più uno, è proprio una testimonianza enorme di come anche nelle situazioni peggiori e più profondamente di ombra e di tenebra della vita si può sopravvivere se gli si dà senso e la cosa bella di questo libro che fa capire come i simboli possano diventare vita è che non l'ha scritto un prete, un guru, un poeta, un letterato, no, Viktor Frankl era un grande psichiatra, fenomenologo, era uno scienziato, un uomo di scienza che viene sbattuto nei lager e lì capisce questo, lì capisce che in fondo ha ragione quell'autore sconosciuto, ignoto, che noi identifichiamo con l'apostolo Giovanni che all'inizio del suo Vangelo dice che lux, la luce, lucet, brilla ma il greco è di più, è fainei, si manifesta, entos cotia fainei, nelle tenebre si manifesta il senso della luce e questa è una testimonianza vivente della Pasqua, del senso della Pasqua che nella morte, nel dire da parte di Cristo Eloi, Eloi, papà, papà, le massa bakhtani, perché mi hai abbandonato? Lì si manifesta poi il senso più profondo della luce il senso più profondo della luce Cristo risorge, questa è la Pasqua questo è il messaggio dirompente e storico che il cristianesimo vuole dare ancora oggi e che può anche in ambito laico essere una dinamo, una dunamis, una potenza che può sconvolgere il nostro tempo ancora oggi perché ancora oggi non è stato ascoltato questo messaggio è stato irregimentato, dogmatizzato, usato per il potere umano, del clero, dei re dei sapienti ancora non è stato come ci dice Jung nell'introduzione di Psicologia e Alchimia, settimo libro non è stato ancora vissuto dalle anime delle persone non si è fatto psiche ma questo messaggio è dirompente il cristianesimo con Paolo nella mi pare seconda lettera ai corinzi ma potrei sbagliare comunque in una delle lettere di Paolo ci dice che storicamente Kefa, Pietro Paolo stesso 500 fratelli che sono tra noi dice Paolo hanno visto il maestro vivo dopo la morte questa è una testimonianza storica di Paolo non è mito non è mito dice ancora Paolo se rendiamo mito la resurrezione non siamo più niente noi cristiani non siamo più niente questa è la dirompente testimonianza storica di persone che ci hanno detto la chiesa il senso ecclesiale della custodia di questa testimonianza il maestro è vivo ovviamente in quest'ultimo passaggio del mio discorso è chiaro che subentra la fede cristiana e che è chiaro che ci si può credere come noi non si può provare nulla di tutto questo siamo nell'ambito della fede ma abbiamo la testimonianza storica che queste persone questi 500 Paolo che fa gli apostoli ci hanno storicamente tramandato Cristo è risorto ora in ambito chiaramente cristiano questa è una fede questa è evidentemente una spiritualità di fede ma a livello culturale questo nucleo di resurrezione ha un potenziale enorme ancora tutto da esprimere da tramutare in vita e la nostra cultura occidentale non può rimuoverlo non possiamo lasciare il cristianesimo e qui è preziosa la testimonianza di Papa Francesco secondo me nelle mani di chi ancora lo usa per legittimare la guerra le violenze di chi ancora lo usa per fare sette dobbiamo riprenderci questi simboli e farli parlare per noi e farli diventare vita per noi al di là di una tesione di fede uno può anche non credere alla storicità della resurrezione ma c'è il simbolo che nella profondità della psiche parla parla e trasforma e ci dice che l'amore può davvero trasformare le persone, le società, le culture e i momenti storici come poi in ambito per esempio psichiatrico neuroscientifico e psicoanalitico ci sono tanti studi che oggi iniziano a dire che l'amore verso se stessi cambia davvero le cose ha un impatto davvero trasformativo e cos'è in fondo la Pasqua cosa esprime il simbolo pasquale se non questo che l'amore vince sulla morte che l'amore è più forte della morte detto questo grazie se siete arrivati fin qui se vi va iscrivetevi e spero che questo video abbia potuto arricchirvi se è così vi invito a iscrivervi al canale e vi invito al prossimo contenuto ciao a tutti e ciao a tutte e buona Pasqua buona cioè resurrezione nell'affrontare le morti le sofferenze le difficoltà che nella vita si presentano sempre comprendendo che al di là della fede religiosa gli si può comunque dare un senso creativo un senso di far risorgere il meglio dalle morti di ognuno un senso quindi proprio pasquale ciao a tutti e ciao a tutte ciao a tutti